Musica La Gemma Allestimenti qui a Tevannevo Al Presidente Aguido Meini E' stato proprio Montecatini Anche perchè storicamente nell'ambiente della mia intervista Sempre qui dalla Gemma Montecatini E buon proseguimento Nuovi acquisti della squadra della Gemma Montecatini Montecatini Basketball Un buon 2023 sia a lei che ha tutta la squadra Marco, sono due Marco Uno sicuramente due Buon proseguimento, buona conferenza stampa E restate collegati per Per la presentazione dei due nuovi acquisti Della squadra del Montecatini Una piazza scelta per quali motivi? Ma poi ho visto anche delle immagini del derby D'andata E farci vedere delle belle cose Ci sono dei meccanismi già ben oliati Che aiuteranno all'interno del Palaterme Con la Gemma Montecatini Siamo felice di cristallizzare E il nostro amore è un'attività Ai nostri tifosi, a noi stessi Ai nostri tifosi, a noi stessi Grazie a tutti i nostri tifosi, a noi stessi E il nostro amore è un'attività Grazie a tutti i nostri tifosi, a noi stessi Grazie a tutti i nostri tifosi, a noi stessi C'è un po' a parole che ho detto prima a Guido Che c'è questa piazza Verso questi tifosi E questo è il mio piacere Perché Montecatini è una città Viene a terra di Piazza Montecatini è la città dove ci sono stati Nel passato finalmente Montecatini Ha finito da una situazione molto naturale E quindi ha fatto questo forte interesse Grazie Poggio Questo volevo sapere Siamo stati miei parenti Sicuramente lavorando con una società Grazie 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 Presidente Gardelli Insieme a Alessandro Lulli E ognuno cerca di fare Partita di domenica con Oleggio Anche se chiaramente Microfone di Radio Garage E saremo contentissimi Di poterti rifare qualche domanda Quindi Grazie a tutti